Qui abbiamo anche una possibilità di intervenire su un disinquinamento attraverso sistemi naturali, attraverso quindi lo sviluppo di particolare tipologia di piante. Il problema generale dell'inquinamento è un problema complesso che può separare le variabili, cercare di risolvere una cosa e poi si affrontano i sistemi complessi, cioè mettendo insieme tutte le variabili per il miglioramento dell'ambiente sia nell'area matematica, abbiamo molta iniziazione sulle culturali, il CNR, gli cristiani hanno un'unità di ricordo bene, siamo il quarto ente in Europa a come capacità di alzare la finanza, con le pubbliche amministrazioni, io credo e di questo sono molto più di conoscenza, ma hanno anche acquisito una forte sensibilità sul loro ruolo sociale, cioè quello di utilizzare la conoscenza produttiva. Grazie. 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 Grazie.